E' tornata alle 13.30 sul Mona l'energia elettrica che è mancata alle 6 del mattino. I tecnici dell'Enel si sono tempestivamente prodigati per risolvere la situazione. Permane il disagio nelle frazioni e in altri comuni della Valle Peligna come Pacentro e Entrodacqua. Il sindaco Peppino Ranalli sulla rete sociale di Facebook ha reso noti i numeri da contattare in caso di emergenza. 0864 25 11 34 e 0864 25 31 67. Sono ancora 115.000 invece le utenze abruzzessi senza energia elettrica a causa dei problemi causati dall'onda di maltempo e non è ancora chiaro quanto ci vorrà per uscire dall'emergenza ma gli interventi proseguono e saranno messi in campo anche elicotteri e droni. Lo rende noto l'Enel che assicura un impegno straordinario dei propri tecnici per fronteggiare i danni. Molte delle utenze interessate dai disservizi di ieri sono state rialimentate nella notte dicono sempre dall'Enel ma lo spostamento delle perturbazioni hanno causato ulteriori guasti alla rete elettrica colpendo anche delle aree dell'Aquilano. La difficile situazione meteorologica e il fatto che le molte strade siano tuttora interrotte rendono estremamente difficoltosi gli interventi per il ripristino delle utenze e impediscono anche una reale valutazione dei danni riportati dalla rete la cui riparazione potrebbe richiedere vari giorni. Pertanto non è possibile al momento fare alcuna previsione sui tempi di rientro dell'emergenza prosegue l'azienda in una nota. L'Enel sta organizzando in coordinamento con le prefetture e con la protezione civile ispezioni in elicottero su tratti aerei di linee elettriche o con l'utilizzo di droni dove le condizioni meteo non consentono il decollo. I tecnici di Enel e Terna stanno lavorando insieme alla riparazione dei guasti sulle reti in particolare nel Terramano e nell'Aquilano e per quanto riguarda la Task Force Enel è stata rafforzata e conta oltre 250 tecnici con il supporto di circa 100 risorse di ditte esterne.